Quindi Subito al passaggio campana e poi punti, punti, punti No, no, almeno per due o tre giorni Già suonata la campana con la pittoria Punti, punti, punti Punti, punti, punti 251, 154 251, 154 Punti, punti, punti 21, 207 21, 207 Siamo già sulla curva che porta sulla rettilineo di arrivo Dove sono in palio altri punti 133, 47 Perché non devo passare da quella curva Due punti, quindi due punti Per il primo punto Tocchera, Martina, Castolina E continuano, ora è proprio, ora Castolina davanti alla Folli Ci hanno formato un terzetto E sono altri punti E sono altri punti E sono altri punti E i punti di meno 8 47 47 133 47 1 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 10 11 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 12 12 12 12 12 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 16 16 17 406, 427, 406, 427 e a questo punto 4 punti anche per Eleonora Romagnoli hanno preso vantaggio, hanno preso un bel vantaggio Eleonora Romagnoli è così abbattiato ma rilanciano da dietro 427, 406, 427, 427 e a questo punto 4 punti suonerò la campana al passaggio quindi ultimo traguardo da 2 punti dopodiché 3, 2, 1 alla fine e stanno sparando tutto, stanno dando tutto questi atleti ultimo giro 207, 49, 27, 49 Elisa Bolli ha preso il largo, sta dando tutto nell'ultimo giro la seta del Derby Romer team e attenzione però viene insediata sul traguardo finale la seta del Derby Romero è un'esercizio la seta del Derby Romero è un'esercizio la seta del Derby Romero è un'esercizio